I cani dei greci, che cani ero? Erano cani da caccia. Fino a che non arrivano i persiani, ricordiamoci che non esistono i morossoidi in Europa. Quindi nel 490 a.C., e anche in precedenza ovviamente, i cani dei greci, ma ovunque, erano cani lupoidi. Greci, lupoidi, erano cani che, in gli stessi testi romani, dicono che a volte si accoppiavano anche con i lupi. E anzi, questa è una buona occasione per dire una cosa. Spesso, non so, chi ha visto il film Il Gradiatore, c'è una scena in cui il decimo meridio in battaglia contro i germani ha a fianco un cane, un cane lupo, che è un pastore telesco ovviamente. E tutti dicono, ma no, non esisteva, sbagliatissimo. Nell'antichità esistevano i cani lupo. Tanto ci sono dei mosaici a Pompei dove si vedono dei cani lupi che siano cani lupi cecosovati, neanche per soldi tedeschi. Per cui questi cani venivano usati. Però di norma è il cane da caccia. Il cane da caccia, dovete pensare al point di oggi, erano cani da caccia per il cinghiale, per il cervo, per l'orso. Era caccia grossa. Quindi erano cani dotati di fiuto e tutto quello che volete, ma erano cani potenti e agili. La cosa importante all'epoca era essere atletici, non solo per i cani. Per cui il cane doveva essere forte, agile, resistente e il cane da caccia serviva proprio a questo. Quando è che arrivano i morossoidi? Allora, il cane dei morossi, da cui poi è stato coniato il termine morossoidi, sono due cose diverse. Ripeto, i cani morossoidi vengono con i persiani nel V secolo a.C. Invece la tribù dei morossi che stava nella zona dell'Epilo che erano macedoni, greci, albaniei. Oggi sono divisi molti stati, ma comunque al cavallo fra l'Albania e la Grecia. Loro avevano questi cani che venivano chiamati i morossi perché erano i cani della tribù dei morossi. Come dire, io chiamo i cani milanese perché ci hanno tutti i milanesi. Per cui questi morossi avevano questi cani, ma li avevano anche altri, i morossi da coni, cioè da tutte le parti. Comunque si vede che non ne avevano di più o che erano buoni, in particolare, no? Per cui venivano chiamati i morossi. Per cui quando si dice cane morosso oggi si intende un morossoide, no? Allora invece si intendeva un cane lupoide. Lupoide. Quando è che c'è questa mutazione? Quando arrivano c'è il tentativo di invasione da parte dei persiani che hanno preso il posto degli assidio babilonesi praticamente tentano, che era un impero enorme, enorme e vogliono invadere la Grecia. E allora si presentano con un esercito sterminato. Ognuno lo spara più grosso degli altri, ma comunque senz'altro centinaia di migliaia di guerrieri. essi portano indietro e i persiani erano famosi per i cani. Addirittura avevano dei villaggi che avevano solo l'esclusivo compito di produrre il cibo per i cani. Quindi il villaggio, tutte le terre del villaggio e non usate per coltivare grano, con le cruz, per tutto quello che si vuole, per dar da mangiare ai cani. E per questo non paghiamo le tasse, no? Perché tanti cani devono mangiare, non c'entra fame, no? E una spedizione di guerra poter durare mesi, molti mesi, un anno, dipende dalla situazione. Allora, praticamente, i persiani avevano questi cani che prendevano un po' da tutte le parti, no? Così come l'esercito, no? C'era l'esercito regolare, diciamo così, ma poi c'erano gli alleati che venivano da tutte le parti. Iran, Iraq, Afghanistan, Kauk, Slovenia, Arabia Saudita, tutte le parti. Allora, praticamente, dato che allora i cani si usava, lì c'erano tanti tipi di cani, no? Però tutti i cani eccezionali, non c'entra fame, no? E la maggior parte erano morossoidi, noi abbiamo le statue, reperti di vario tipo, no? Dove si vede un cano morossoidi, no? Quando c'è questa guerra, no? Che i persiani perdono, no? Guidati da Cerse, no? Devono ritirarsi. Una parte di questi cani scappa, viene catturata, insomma, rimane sul territorio, no? Questi cani catturati, che erano validi, si accoppiano, in pratica, con i cani, no? Della Grecia, dell'attuale Albania, Macedonia, e così via, e da lì nasce il cane chiamato morosso d'epiro. L'epiro, ripeto, una zona a cavallo fra gli orvi anni stati, Albania e Grecia. Il morosso d'epiro si mostra subito un grandissimo cane, non avevo mai visto cani di igiene all'epoca, e prende piede, no? Prende piede come? Allora, probabilmente era un morosso, no? Cioè, un morosso d'epiro, quindi un incrocio tra i cani locali e quelli di provenienza persiana, era uno di questi cani Peritas. Peritas era i cani di Alessandro Magno nel quarto secolo a.C. Allora, Alessandro Magno era un amante degli animali, eh? Ed è famosa per questo cavallo Bucefalo, uno stallone, che beve un occhio chiaro, uno scuro, così come deve avere un occhio uno scuro Alessandro Magno. Bucefalo, il cavallo, è Peritas. Il Peritas gli viene regalato da alcuni amici, no? Prima della partenza per la conquista dell'Asia. Non l'ho chiamato loro, no? E questo cane che era sempre a fianco, quindi significa che in battaglia quando lui andava a cavallo il cane era a fianco, se andava a dormire era sempre appiccicato, questo cane come tutti i cani, e questo cane viene ucciso raccontano i testi nella battaglia di Gaugamera che oggi giorno in Mossul in Iraq mi sembra 331 a.C. no? dicono le cronache scritte da un autore romano che l'ha letto da un altro autore prima e così via, quindi si parla di antichità, non si sa bene. Comunque, sarebbe stato ucciso da un elefante da guerra o dai soldati che erano sulla groppa dell'elefante. A un certo punto in pratica si racconta che Alessandro Magno fu sbarzato, disarcionato dal cavallo e l'elefante da guerra stava per schiacciarlo, allora Peritas riuscì a proteggere il padrone mordendo il labbro o il labbro da provocire, probabilmente il labbro dell'elefante, no? distraendo l'attenzione. Infatti Alessandro Magno riuscì a salvarsi ma Peritas venne ucciso. E poi Alessandro Magno edificò una città con il nome così si racconta di Peritas così come poi edificò una città in onore di Bucefaro, il cavallo, no? La cosa bisogna capire questo cane o era super intelligente, no? O aveva già avuto esperienze di questo genere perché è vero che i cani per bloccare i bovini di Alessandro o anche i cavalli di Alessandro al labbro un punto molto doloroso e li tengono fermi ma se non avesse avuto precedente conoscenza di un elefante non avrebbe neanche mai capito dove poteva avere quella bestia strana dei labbra, no? E quindi forse già lo faceva. Una curiosità probabilmente perché voi direte ma e i cani depressiani in battaglia non c'erano? Dipende perché spesso alcuni animali non vanno bene con altri animali anche nello stesso esercito. Per esempio i cavalli se non sono ben addestrati non riescono a stare insieme domedali ai cammelli per esempio per via del Rodore per un sacco di altre cose anche nel medioevo durante le crociate un ottimo modo per far scappare i cavalli dai crociati era mandarli davanti incontro i domedali per Rodore l'elefante probabilmente non poteva parliamo sempre di 80 100 200 elefanti da guerra distanti non poteva essere utilizzato insieme ai cani da guerra dello stesso esercito perché l'elefante è un animale che può riporirsi per molto poco come la storia del topolino non è vero avere troppo riscatto non è così però comunque un elefante che si spaventa quasi sempre torna indietro e quindi travolge il proprio esercito quindi proprio per l'utilizzo del cane da guerra che una volta lanciato verso le linee nemiche doveva pur tornare indietro richiamato con le tombe con dei fischi perché è presto detto se voi lanciate uno dei cani contro un esercito nemico che magari ha la stessa cultura vostra si veste come vuoi puzza come vuoi ha le lingue come vuoi perché qui non parliamo di fare la guerra agli italiani contro i cinesi dire che era un popolazione che magari erano nemiche e stavano a 50 km di distanza solo dall'altra in quella situazione il cane non riconosce dal reato dal nemico non è possibile e quindi in quelli in quei frangenti il cane deve essere dopo essere stato lanciato deve essere richiamato ed è sempre un'altra situazione in cui nell'antichità veniva usato il cane venivano usati i cani era nel uccidere i fuggitivi perché nelle battaglie dell'antichità finché si combattevano uno di fronte all'altro forze di pari armamento e così via i morti erano sempre relativamente pochi il numero vero dei morti nelle battaglie avveniva quando l'esercito fuggiva ecco che allora i cani servono perché non vanno più contro delle forze disciplinate organizzate e quindi in quei casi venivano lanciati i cani perché ripeto è nella fuga che si vedono si vede maggior numero di morti faccio un esempio quando quando Pirbon combatte contro le regioni romane che arrivano in Italia alla prima battaglia vince con parecchi morti alla seconda battaglia vince ma con con una tale perdita di uomini da dire praticamente se vinco un'altra battaglia così rimango senza più un soldato perché i romani avevano perso ma erano stati perché poi erano controllati sul campo erano morti tutti uccisi con colpi al petto quindi Pirro rimasto stupito perché nessuno era scappato sono morti combattendo ecco certi cani non avrebbero potuto fare niente ripeto i cani in quel caso venivano utilizzati per uccidere i fuggitivi sbandati disorganizzati allora un altro aspetto che è interessante variare qual è allora i romani arriviamo ai romani adesso i romani conobbero il monosso di Epiro e lo modificarono in meglio come qualsiasi cosa e lo adottarono stiamo parlando del più potente impero mai esistito se si fanno i paragoni è mai esistito nell'umanità perché all'epoca Roma non aveva nulla che poteva poteva perdere qualche battaglia ma vincere sempre il governo i romani erano persone estremamente concrete non erano italiani di oggi diciamo così per cui il cane veniva a livello militare veniva addestato per fare determinati compiti non significa che se una pattuglia di romani con cani si incontrava con dei nemici i cani non combattessero attenzione i cani erano in grado di fare tutto e come i nostri cani anti-esplosivo o i cani scout di oggi non è che non sono addestati ad attacco tutti hanno la base dell'addestamento dell'attacco fanno altre cose ma la base c'è sempre allora i romani i romani avevano questi morossi che erano il cane della regione non dovete pensare a un mastino nopoletano di oggi pesante i romani quando si spostavano a piedi in zona ostile dalla mattina fino alle tre di pomeriggio circa perché poi si fermavano e costruivano l'accampamento percorrevano circa 35 km a piedi i cani non che li portavano sul caldo camminavano a fianco col caldo col freddo sotto la pioggia e tutto devono essere resistenti ma atletici certo se si prendesse oggi giorno un mastino nopoletano non farebbe di quelli da show non farebbe 35 km fosse 35 metri prima di essere sfiancati erano cani diciamo più simili al corso cani corso che è una derivazione sempre del cane da presa prima il mastino nopoletano il cane corso era la stessa razza decenni fa si sono state modificate sempre per lo show quindi un cane simile al corso ma più peroso ci sono le descrizioni e con rumella e così via con più pelo era un mastino dell'epilo praticamente a livello morfologico ed era un cane che ovviamente si modificava a seconda della zona in cui le regioni rimanevano non all'istante nel corso degli anni si modificava si modificava in base alle condizioni atmosferiche le malattie e così via l'alimentazione di quella zona allora prima di spiegarvi bene questo aspetto vi dico che chi usava morto i cani erano i cosiddetti in guerra erano i cosiddetti barbari no? qui il discorso si fa lungo e allora esaminiamolo con attenzione allora quando i romani invadono la Gallia per esempio prima di Giulio Cesare no? c'era i romani arrivano in Gallia e per esempio incontrano gli alverni no? gli alverni erano dei galli no? l'alvernia è dove c'è adesso il masticcio centrale della Francia nel sud nel centro sud della Francia allora c'erano questi alverni che avevano nel 121 avanti Cristo se ricordo bene fatemi controllare perché potrei dire una sciocchezza no? sì allora praticamente questo questi alverni avevano un re si chiamava Abituito no? Abituito prima si incontra con i romani per cercare di trovare la pace no? perché i romani sono troppo potenti no? allora quando queste sono cronache storiche quando Abituito si presenta all'accampamento romano per parlare con il consul e così via con il comandante lui si presenta con un certo seguito no? perché era un re ma con un certo uno di cani da guerra eh? perché loro usavano i cani da guerra in battaglia tanto che sono stati effettivamente usati i cani tanto che nel 121 appunto c'è una battaglia fra romani e galli quella di Bindadium no? i romani fanno una strage di galli uccidono 120.000 di guerrieri in quella battaglia però uno forse nemico che più li colpisce non sono i galli che non ce la fanno contro loro la regione disciplinata romana ma sono i cani tanto che dopo quella battaglia i romani coniagliano una moneta in cui si vede chiaramente un cane un cane da guerra e un cane da battaglia proprio dei galli se i romani coniagliano una moneta con le immagini dei cani da guerra che solitamente ignoravano significa che si sono trovati difficoltà o che sono stati colpiti dal rimpiego di questi cani e hanno fatto proprio una una medaglia altri che usarono i cani e anche questi misero in difficoltà i romani chi furono i cimbri i cimbri venivano dal nord dell'Europa quindi scendendo cercando nuove terre loro avevano chiesto il passaggio dei territori romani i romani sono comportati non intelligentemente erano schiavizzati insomma questi si sono liberati ed erano una marea 400-500 mila veramente un'orda e i cimbri batterono più volte le regioni romane no? finché arrivarono nella zona dell'attuale Alessandria no? e lì si svolge la battaglia dei campi raudi siamo nel 101 avanti Cristo allora questi cimbri che erano guerrieri formidabili però indisciplinati no? cosa fanno? arrivano con tutte le famiglie perché loro si erano spostati proprio per cercare una nuova vita in pratica per cui si muovevano con i carri no? e con bambini donne e tutto e con i loro cani ogni famiglia poteva esprimere diciamo così uno o due guerrieri e poteva avere uno o due cani no? allora se voi calcolate che nella battaglia gli romani uccidono fra i 140.000 e i 160.000 guerrieri cimbri è un massacro è un massacro dovete pensare che i cani fossero almeno decine di migliaia almeno decine di migliaia e infatti quei cani mettono in difficoltà le truppe romane che ormai hanno battuto i barbari i cimbri ma che si si stanno avvicinando all'accampamento cimbro com'era questo accampamento? com'era il far west? loro metterono i carri tutti intorno no? facevano uno specie di fortidizio diciamo così del punto di difesa estremo no? quando i romani avanzano verso questo enorme precinto diciamo così partono i cani dei cimbri no? e i testi romani ancora una volta citano i cani da guerra cosa che solitamente non facevano no? e perché i romani che erano così disciplinati si trovano in difficoltà? probabilmente per via dell'enorme numero di morti perché lo schieramento romano granitico compatto no? avrebbe fermato senza problemi i cani no? con gli scudi le lanci e così via ma dovendo invece avanzare significa che i soldati dovranno scavalcare mucchi morti mucchi quindi significa che lo schieramento si doveva per forza aprire per avanzare ecco che allora l'attacco i cani è veramente riuscito a penetrare nello schieramento che era ormai disomogeneo proprio per questa difficoltà più volte prima ho detto che l'esercito romano non poteva impiegare in battaglia i cani così come non avrebbero potuto utilizzarlo eserciti pesantemente armati e disciplinati no? e mi spiego subito il motivo l'esercito romano come la farange macedone era strutturata perfettamente a livello di disciplina con uno schieramento perfetto che non lasciava spazio ai cani per esempio la regione romana era in grado di fare delle evoluzioni dietro i comandi con le tombe di muoversi di cambiare schieramento in un modo inverosimile in modo eccezionale cambia uno schieramento in un attimo perché completamente addestrati disciplinati anche per quello se avessero avuto i cani avrebbero avuto dei problemi cioè avrebbero validato la loro stessa strategia facciamo un esempio se avessero usato i cani in battaglia liberandoli come gli altri i cani sarebbero andati avrebbero combattuto poi però avrebbero dovuto essere chiamati perché i romani avevano morti alleati che spesso erano della stessa etnia lingua odore e così via del nemico e quindi i cani non avrebbero saputo distinguere fra amici e nemici ed è una cosa che non va molto bene diciamo così allora quindi avrebbero dovuto essere chiamati i cani con tombe e finischi e così via dove sarebbero passati per entrare nei ranghi i cani non potevano passare attraverso il fronte dei regionali che era pronto alla battaglia perché la regione le centurie potevano fare cose di genere per esempio contro gli attacchi degli elefanti potevano aprire i ranghi in modo da far passare gli elefanti ma nel caso dei cani è una cosa totalmente diversa comunque non sarebbe stata controproducente per cui i cani cosa avrebbero dovuto fare passare ai lati se non potevano passare a fare fila dovevano passare ai lati ma ai lati dello schieramento di infanteria c'era la cavalleria ora questi cani che come ho detto prima erano destrati anche e in particolare eppure contro la cavalleria avrebbero spaventato i stessi cavalli del proprio esercito perché i cavalli temevano i cani in quel periodo perché i cani arrivavano mordevano pesantemente non erano morsetti mordevano le zampe i galletti il ventre del cane quindi i cavalli avevano paura dei cani e questo sarebbe stato un problema enorme e quindi l'esercito romano sul campo in battaglia era troppo addestrato troppo disciplinato con uno scopo ben chiaro di evoluzione nel campo di battaglia da non poter essere inficiato proprio dai suoi cani e quindi questo è il chiarimento principale un altro aspetto i cani i cani servivano anche per altre cose per esempio i cani fin dall'antichità non solo a Roma servivano per cercare i nemici cioè la stessa cosa che fanno oggi giorno i cani cosiddetti scout del nostro esercito per esempio si muovono liberi e vanno a perlustrare la zona in cui i soldati stanno procedendo per cercare se ci sono esplosivi bombi artigianali cecchini truppe nemiche in agguato quindi vanno in avanza scoperta e quella è una perlustrazione ma i cani servono e servivano anche per trovare il nemico allora chi fanno cos'è il genere il Filippo II che è il re di Macedonia nel 352 a.C. cosa fa? invade il territorio degli orbeliani che erano dei taci territorio di montagne coperto di immense foreste e ovviamente i macedoni non conoscono per niente quel territorio non trovano evidentemente neanche guide in grado di aiutarli insomma affatto sa che i gli orbeliani fanno una guerriglia feroci e creano problemi e questi non riescono trovare allora cosa fa Filippo II come fa allora i cani seguiti dai truppe ovviamente trovano le tracce e le piste di questi orbeliani che erano nascosti voi direte come è possibile perché tanto i miei dicono se io mi nascondo in un bosco con il fisco che mi toghi con i cani ed è anche quello il dubbio però il fatto che questi orbeliani non è da un 2 o 10 non miliani migliaia migliaia di persone che lasciano tracce accendono fuochi di notte cucinano fare il fumo hanno bestiame perché non si può cacciare per 10.000 persone tutti i giorni e trovare a mangiare devono avere bestiame bestiame pascola lascia tracce letame un sacco di segnali che i cani con i i gestori che sapevano erano del mestiere e alla fine vengono dintracciati e sconfitti questo fa capire però subito una cosa che già allora i macedoni avevano cani addestrati per quello perché non si può prendere un qualsiasi cane anche il cane nella caccia che gli fate sentire il dolore degli abiti di una persona che non lo trova non sa che cosa vi chiedete voi dovete avere i cani già addestrati per metterli in campo quindi significa che questa funzione è da una di quelle esistenti questa è la seconda parte del video sull'argomento se vi interessa passate al video successivo se volete informazioni sul tema molto più approfondite vi consigliamo il libro Uomini e cani in guerra è il giornale storico cinofilo online gratuito e senza registrazione K9 Uomini e cani su internet che tratta moltissimi argomenti legati al migliore amico dell'uomo incluso questo in descrizione sotto trovate i relativi link buon dì grazie